Sindaco Bonesso, una manifestazione molto partecipata, vuol dire che il problema è sentito e soprattutto che siamo agli sgoccioli? I nostri comuni non ce la fanno più, non potevano sopportare la manovra di luglio, figurarsi questa di agosto che ha notevolmente inasprito anche i contenuti. Credo che il governo deve fare una seria riflessione e quindi siamo qui per proporre modifiche che non penalizzino gli enti locali, soprattutto i nostri che sono tutti virtuosi. Quali modifiche in particolare? Io credo che abbia parlato bene anche Formigoni quando ho detto prima che deve un po' sfoltirsi lo Stato, mentre gli enti locali che sono nella trincea, che danno i servizi ai cittadini, più di così non possono sicuramente fare.